Dopo questo confronto c'era uno che io considero molto importante, che affronta il tema delle infrastrutture. Ovviamente non potevamo non trattare la questione di Genova, della ricostruzione del Ponte Morandi, ma soprattutto delle concessioni di come l'Italia affronta e difende le proprie infrastrutture e reti strategiche. Su questo c'è stato un dibattito parlamentare che per me è stato molto deludente. Il Fratelli d'Italia aveva fatto una proposta molto articolata sulla proprietà pubblica italiana delle reti e delle infrastrutture strategiche e sulle regole perché queste reti potessero essere gestite dai privati. È stata bocciata dal governo, ma non penso che non pensiamo che si possa continuare a tacere su come noi oggettivamente difendiamo alcune tra le cose più importanti e strategiche che abbiamo. In questo dibattito ci sarà il nostro Fabio Rampelli, il vicepresidente della Camera, c'è il sottosegretario della presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che lì rappresenterà il governo, e c'è Maurizio Martina. Abbiamo invitato il segretario del PD Maurizio Martina. Ora ha fatto molto discutere questo fatto che noi invitassimo Martina, ma vi segnalo sommessamente che non è proprio la prima volta che c'è un esponente del Partito Democratico o un segretario del Partito Democratico ad Atreiu. Per la verità ci sono stati tutti, a parte Renzi, che abbiamo invitato per cinque anni più o meno e che non ha mai accettato il confronto, ma tutti gli altri non hanno mai avuto problemi. Il segretario Martina ha accettato il nostro invito. Poi devo dire che nelle ultime ore il PD si è lanciato in una polemica francamente molto poco comprensibile sui manifesti. Come avete visto, satirici, i ragazzi hanno fatto una campagna satirica che non ha risparmiato nessuno, per lanciare questa manifestazione, ma insomma, allegra, per carità, divertente, ma una cosa sempre nella capacità di fare satira che deve rispettare tutti. E quindi è stata una campagna che infatti è girato molto, ha lanciato benissimo la manifestazione, poi ne parlerà Fabio Roscani. Tra questi manifesti ce n'era uno che ritrae, Emanuele Fiano, con una frase che dice, quando scopri che Atreio è la ventunesima edizione e si è superato il ventennio. In riferimento ovviamente alle proposte di legge che Fiano ha fatto sul fascismo di recente. Il PD ha lanciato su questo tema una campagna dicendo vergogna, Emanuele Fiano ha detto che io posso photoshopare i miei manifesti, ma non la storia, che non posso photoshopare le leggi razziali. Segnalo che mi vedo un tantino sulla difensiva, perché il manifesto fa riferimento a una cosa precisa, non c'è tra niente con le leggi razziali, con l'apologia del fascismo, fa riferimento alle proposte che Fiano ha fatto in questi anni e prende in giro, secondo noi, quello che è un approccio un po' ossessivo verso il tema del ritorno del fascismo che a nostra memoria è finito 70 anni fa. E quindi siccome a questa polemica sono seguiti anche dei curiosi sms sulla partecipazione del segretario Martina alla festa, io voglio dire, confido che Martina ci sia. Perché utilizzare una scusa del genere per mancare la manifestazione, io lo considererei non voler affrontare il tema delle concessioni e di quello che è accaduto in questi anni dal punto di vista del PD. perché non c'è davvero ragione per non venire alla manifestazione.